Selassi, come va il ritiro? E' bene, bene. Sono andato bene in questo ritiro perché... Mo' stava iniziato questo ritiro con Mr. Baroni, quindi abbiamo finito quelle prima a Pisa Ferratto. Mr. Baroni era una persona seria, quindi a me mi piace ogni allenatore così. Hai trovato delle differenze tra gli allenamenti con la prima squadra e la primavera? Sì, perché in primavera se sbaglia non c'è nessun problema, però in prima squadra se sbaglia, in serie B così si sbaglia, è un'altra cosa, si prende subito il gol. Senti, invece con chi è legato di più dei ragazzi? Tu ne conoscivi già parecchi, ma chi è il tuo preferito? Il mio preferito era Ancini, Magnero, Bocchetti, Nandos, Fossini, tutti, tutti, Carcalis e Mattia, tutti i giocatori, mi trovi bene con tutti. Speriamo che questa squadra quest'anno pure possa andare bene.